Io lo so già, perché è facilissimo, è una previsione facilissima da azzeccare. Questo video provocherà un po' di discussione. Questo video forse non verrà nemmeno capito da tanti che vorranno andare dritti al punto e basta. Però il titolo è chiaro, eh! La nuova Juventus non si fa mettere i piedi in testa. E adesso vi spiego perché. Ripeto, in tanti vedranno il dito e non la luna. Però la trattativa alleviata a Calafiori ci insegna questo. La Juventus ha vinto nella trattativa a Calafiori. Un popolare opinia. La Juventus ha vinto nella trattativa a Calafiori. E vi spiego il perché. Calafiori andrà a giocare in Premier League. Sarà un giocatore dell'Arsenal. Il Bologna accetterà un'offerta da 50 milioni di euro. E il calciatore andrà a percepire 3 milioni e mezzo all'anno. Ottimo per il Bologna. Ottimo per Calafiori. Ottimo per l'Arsenal. Pessimo per la Juve. Da questo punto di vista, quello prettamente sportivo. Avere Calafiori e non avere Calafiori e il rosa l'anno prossimo. Beh, per la Juve è un danno. Il fatto che il Bologna abbia venduto il calciatore a quello che era il prezzo che aveva sparato alla Juventus. È super positivo per il Bologna. E quindi vanno fatti complimenti al Bologna che riesce a cedere sul mercato un calciatore a un prezzo molto elevato per rientrare di quella spesa del Basilea, di quella percentuale di rivendita molto elevata. Quindi complimentissimi al Bologna. Non è una rosicata. Sono complimenti sinceri perché in Italia nessuno sarebbe riuscito a dare quella cifra al Bologna per il cartello di Calafiori. Sono riusciti a trovare un acquirente e quindi sono stati veramente molto molto bravi. La Juventus voleva Calafiori. Non è un mistero, anzi il segreto di Pulcinella. La Juventus con Calafiori aveva parlato, aveva trovato un accordo. Calafiori era contento di tornare a lavorare con Tiago Motta. Tiago Motta era contento di tornare a lavorare con Calafiori. Al Bologna può aver dato fastidio questo inserimento di rivi su Tiago Motta? Sicuramente sì. Assolutamente sì. E quindi sapete che poi nascono anche un po' di antipatie nei confronti di determinate società. Ma fanno parte del gioco. Ci mancherebbe altro. La Juve voleva Calafiori e voleva orientare la trattativa sulla base di 25, massimo 30 milioni o qualcosa di più con l'inserimento di una contropartita. Quindi la possibilità di non versare una parte cash più elevata sul cartello del calciatore. Questo era l'accordo che era stato bene o male trovato a grandi linee prima dell'Europeo e poi l'Europeo è stato nemico pubblico numero uno della Juventus ed è stato alleato numero uno del Bologna e di Calafiori. Perché? Perché le ottime prestazioni, le buone prestazioni, molto buone, di Calafiori all'Europeo, che è stato uno dei pochi a salvarsi con l'Italia, hanno attirato l'attenzione di altri club o hanno confermato l'intenzione di altri club di andare a fare un'offerta per Calafiori. Perché la Juventus non si fa mettere i piedi in testa? Perché un conto è andare a prendere Calafiori a 25 o 30 milioni o liberarsi di un giocatore rosa considerato esubero o non più utile alla causa per andare ad affondare su un calciatore che viene considerato idoneo. Un conto è andare a pagare il giocatore 50 milioni di euro. E la Juventus, questa nuova Juventus, per quello che ho sottolineato e evidenzato il nuova, non vuole più ragionare come in passato. Ma perché non può più ragionare come in passato. La Juventus di qualche anno fa, quella dei nove scudetti consecutivi, avrebbe accontentato, avrebbe accettato le richieste del Bologna. avrebbe detto 20 e loro 40 e la Juve 30 e loro 50, sarebbe andata così la trattativa e alla fine avrebbero sborsato 50 milioni. Oggi non vogliono e non possono più fare questo ragionamento. E quindi comprare Calafiori a 25 o 30 è un conto, comprare Calafiori a 50 è un altro. E la Juve non lo può e non lo vuole fare. E quindi non ci prova neanche e va su un'alternativa. Le alternative le vediamo. Perché Kivior sinceramente mi convince poco, anche se ha già lavorato con Tiago Motta, anche se è un calciatore che diventa in uscita dall'Arsenal per forza di cose. L'Arsenal sta allestendo veramente una retroguardia di alto livello. Quindi in bocca al lupo a Calafiori per questa nuova avventura all'estero e noi cerchiamo di crearci in casa, dato che abbiamo Tiago Motta, che è quello che ci ha messo mano su Calafiori, cerchiamo di creare il nuovo Calafiori. Io ieri in live vi parlavo di Wizen, ma anche ieri sera parlando con Romeo Agresti, Romeo diceva che se arriva un'offerta da 25 milioni, almeno per Wizen, la Juventus se ne libera alla svelta. Quindi non è quello il profilo. Mi dispiace tanto, sinceramente. Però penso che la Juventus abbia necessità, in questo momento, di monetizzare per le eccessioni. Ripeto, Kivior non mi scalda il cuore. Vediamo se salta fuori qualcosa in più. Non significa che sia una buona notizia perdere Calafiori. Io voglio che questo sia ben chiaro, perché, come dicevo in apertura di video, averlo e non averlo, beh, è meglio averlo. Però è anche logico che la Juventus debba rimanere concentrata sulla volontà di pagarlo cifre umane, per la Juve e per la Serie A. In Serie A oggi nessuno può permettersi di spendere 50 milioni per un difensore. Stop. Non esiste. Qualcuno mi dirà, Sima Bremer l'hai preso a 50, dopo aver venduto De Litt a 60. Qui stai parlando invece di un investimento in più per la difesa. Quindi un conto è se devi sostituire, e secondo me certe cifre non le vedremo più neanche per sostituire. Un conto è se devi acquistare e basta. Quindi questo è il ragionamento. La Juventus ha fatto questo, è ancora un po' debole del fatto che non si fa mettere i piedi in testa, però allora parliamo di Turam. La Juventus non ha ancora concluso Turam e gli ha già vietato di andare all'Olimpiade, come ha fatto il Real Madrid con Bappé. Per il ragazzo è una tristezza, eccetera, eccetera, eccetera. La Juventus, come tutti i club del mondo, ha la facoltà di decidere se il giocatore può andarci sì o può andarci no. Far andare un giocatore all'Olimpiade a fine luglio sarebbe deleterio per quanto riguarda la preparazione, per quanto riguarda gli allenamenti, per quanto riguarda il ritiro, per quanto riguarda l'inserimento all'interno di un nuovo contesto, come quello italiano e come quello bianconero. La Juventus ha fatto un atto che condivido alla grandissima. Ieri eravamo in live, qualcuno mi aveva chiesto ma quando arriva Turam? e gli avevo detto è tardi purtroppo per via dell'Olimpiade. Chiudiamola live, ecco lì la notizia. Tire rire rire, i lacrime mi hanno tolto anche Turam. È giusto così? È giusto così? Vengano prima gli interessi della Juventus. Con buona pace degli enti federali, dei presidenti delle federazioni che dopo andranno a piangere in un angolino dicendo che i club però brutti, cattivoni, non aiutano le nazionali. Le nazionali come aiutano i club? Punto di domanda. Sir Gravina, torniamo a quel discorso lì. Quindi giusto così la Juventus va a fare questo acquisto, mette questa clausola, questa postilla, questo asterisco e viene accontentata. Sono già tante cose che stanno convincendo. Così come la Juventus aveva in testa di fare questo tipo di ragionamento e cioè Turan, Douglas Lewis e Cobb Mainers. Uno è stato ufficializzato, l'altro sta arrivando e su Cobb Mainers si sta lavorando. Ragazzi, lo so che è un po' così, ma domani ci sono le visite mediche di Di Gregorio, intanto, così andiamo a ufficializzare anche il portiere e poi ci concentreremo su quella che sarà l'uscita di Chesney e cercheremo di capire dove verrà incastrato. Però intanto la Juventus si mette avanti e va a fare l'offerta anche per Cobb Mainers, va a lavorare per capire gli estremi. Prima ci saranno da fare alcune eccessioni, certo, però la Juve è lì, la Juve è attenta, la Juve è vigile, la Juve è viva. La Juventus si è data delle priorità che hanno nomi e cognomi per quelle si spende e per le altre no. Kivior non avrà l'offerta di Calafiori 30 milioni, per intenderci. Si cercherà una formula un po' più creativa anche per cercare di capire quanto il giocatore è fuori dal progetto dell'Arsen in questo momento. Aveva già giocato poco l'anno scorso, ora con Calafiori giocherà ancora meno. Quindi si cercano gli incastri più positivi o se no se andrà su un altro profilo Giuntoli dovrà avere una lista per forza di cose, non può essere uno sprovveduto. Così come sta saltando fuori un nuovo nome per il terzino destro dopo che Di Lorenzo sembra destinato a rimanere a Napoli. Mannaggia che sfortuna, mi dispiace veramente tantissimo, ma si parla di Ian Couto, terzino di proprietà del Manchester City che l'anno scorso ha giocato al Girona, anzi nelle ultime due stagioni ha giocato a Girona, è un 2002 brasiliano e qui nasce un problema perché la Juventus con l'acquisto di Douglas Lewis è quello di Assic che ieri è stato depositato in Lega il contratto, ha terminato gli slot per gli extracomunitari. Quindi o facciamo un esame a Perugia di italiano, lo facciamo naturalizzare, oppure no, andiamo a controllare per fortuna un passaporto portoghese. Questa piccola gag, intanto per sbloccarvi i ricordi del Vietnam che sono ancora abbastanza freschi, e in seconda battuta per darvi un'indicazione su quello che deve essere il calciomercato della Juve. non si può andare a prendere qualsiasi tipo di giocatore, la Juventus dovrà prendere calciatori comunitari o con passaporti comunitari. Finito gli slot. Anche cedendo altri giocatori non può più liberarne. Ci sono alcune federazioni come quelle inglese e quelle albanese che comunque permettono di un tesseramento extra perché vengono considerati comunque comunitari, insomma, un po' di cavilli burocratici, però per il resto la Juventus non può andare sul mercato. Tradotto, Sancho anche se è inglese e dato che l'Unione Europea l'Inghilterra non è più in Unione Europea comunque Sancho può essere tesserato per via di questi cavilli. Brasiliani, argentini, no, con la roba lì non si può più fare. La Juventus ha terminato i posti, Koppmeiners è olandese da quanto mi risulta, Kivior è polacco da quanto mi risulta e appunto Jankouto è brasiliano, sì, ma passa porto portoghese anche se gioca nel Brasile. La Juve sta cercando di creare questa colonia brasiliana dopo Bremer, Danilo, Douglas Lewis e l'addio di Alexandro che era schedulato e era programmato. La Juventus va anche su questo tipo di profili qua. Ragazzi, ripeto, per me è una strategia giusta. Io voglio quel giocatore, sì, io lo voglio ma lo voglio pagare tot, non partecipo all'asta. Se tu lo valuti di più è legittimo da parte tua, non sarò io l'acquirente. Ne troverai un altro. L'hanno trovato, bravissimi al Bologna perché secondo me il Bologna fa veramente un'operazione della Madonna perché chiudere 50 milioni un difensore centrale è tanta roba. Per loro sfortuna c'è quella piccola, anzi, grande clausola relativa alla rivendita però hanno fatto veramente, l'hanno massimizzato questo giocatore. L'hanno preso, hanno scommesso su di lui, l'hanno fatto crescere, hanno raggiunto una qualificazione alla Champions League anche grazie al suo lavoro e poi l'hanno venduto a una cifra altissima. Quindi Bologna ha fatto veramente un capolavoro. Dispiace tanto che non sarà un giocatore della Juventus almeno per il momento ma la Juve ha fatto bene, non può partecipare ad Aste, non vuole andare avanti, non vuole rischiare che un giocatore come Turan si faccia male durante l'Olimpiade, tutto tutto giusto. Quindi io sono assolutamente concorde con la linea guida di questa nuova società, ribadisco, nuova, perché poi quella vecchia o quella ancora più vecchia andava a comprare dei giocatori, andava a trattare i giocatori e poi si accorgeva che non erano comunitari, avevano terminato i posti, quindi veramente, passato abbiamo visto delle cose quasi dilettantistiche, meno male che adesso si respira un po' di aria diversa. Ciao a tutti ragazzi.